ragazzi e ragazzi ciao e benvenuti in questo nuovo video dopo una settimana di pausa naturalmente se non l'avete fatto vi avevo invitato a vedere il mio canale twitter dove postavo naturalmente tutti gli articoli principali relativi al mondo cripto e spero che l'abbiate fatto in particolare stavo per scrivere proprio un articolo relativo a questo video di binance che utilizzando il sistema di binance pay praticamente permette il pagamento diretto con il vostro wallet e quindi la possibilità di comprare in questo caso nell'evento del festival di binance pay alcuni prodotti alimentari utilizzando commissioni se non addirittura nulla è almeno un quanto basse tipo qualche centesimo di dollaro e quindi stavo proprio per scrivere un un post una replica del tweet dicendo anzi corrego direttamente l'articolo a chi oggi tra i commercianti ritiene ingiusto pagare altre commissioni perché obbligati ad accettare le carte dico ci sono altri metodi per pagare il meno possibile addirittura niente di commissione chi non si aggiorna è destinato a morire e quindi twitter su chiocciola cig admin chi mi volesse seguire può farlo e posto di solito articoli interessanti ulteriori articoli relativi al mondo web che approfondiremo prima di andare a fare un'analisi on chain sul prezzo di bitcoin ma attenzione lo faremo dopo questo articolo che ritengo abbastanza interessante dopo quello che abbiamo visto soprattutto con solana mobile ossia il nuovo mobile phone con supporto al web 4.0 volevo solo approfondire i concetti perché sembrano un po' lacunosi per molti o comunque vengono buttati lì dal mainstream per quanto riguarda il mondo cripto senza dare aggiornamento e specifiche quindi questo articolo cerca anche di spiegare cos'è il web 5.0 il 3.0 per motivo non si parla mai del 4.0 bene naturalmente la frase è molto bella nel senso che il futuro è un processo non è una destinazione e quindi il processo continuo di aggiornamento verso tecnologie che devono portare ovviamente delle miglioramenti alla realtà umana la realtà reale quindi casi d'uso che devono essere realmente esistenti devono devono prendere questo questo spazio questo sfogo diciamo i sistemi di aggiornamento cripto e decentralizzati ma andiamo nell'ottica dopo vedere naturalmente Buzz Lightyear che guarda verso lo spazio e quindi anche verso il futuro andiamo direttamente a spiegare un po' quello che è accaduto diciamo che il web 5.0 non è altro che l'evoluzione del web 3.0 ossia proprio quello per internet per la parte computer del browser che permetterebbe un sistema decentralizzato con pieno autorizzazione e controllo decentralizzato quindi del dell'utente e che è stato promosso da Jack Dorsey il titolare di Twitter l'annuncio della piattaforma naturalmente che supererebbe 1 2 3 web che già esistono vi ricordo che il 2.0 è quello informativo e interattivo basato su sistemi centralizzati e quindi nocivi alla democrazia e ai sistemi perché controllano loro stesso tutti è nato il web 3.0 ossia sistemi decentralizzati che è possibile accedere con il vostro wallet come per esempio i siti OpenSea dove potete postare inviare comprare o vendere beni nft o altro di altra natura e quindi tutto il sistema legato alla decentralizzazione è già in atto e ci sono naturalmente altre informazioni e statistiche che danno delle performance di crescita notevoli ma allora cos'è questo 5.0 praticamente come piattaforma? Qua c'è l'indicazione per approfondire poi vi posterò naturalmente in fondo al video in descrizione l'articolo da leggere. Dalla statistica web al web collaborativo in pratica il web 2.0 rispetto al web 3.0 cos'è che ha di più il 3.0? Praticamente la collaborazione la possibilità di interagire in modo decentralizzato ottenuto quindi un web collaborativo rispetto a quello che era solo quello di visionare il web 2.0 è il classico web dove andate su wikipedia leggete quello che c'è scritto e avete un'informazione. Lo stesso sito che sto guardando anch'io adesso cointelegraph.com vi permette di agire in modo naturalmente in questo caso web 2.0 di ottenere delle informazioni ma non c'è un'interazione da parte dell'utente e l'utente che era quindi una volta proprio di tipo passivo diventa un detentore e non solo della creazione e della gestione anche online dei contenuti ma può anche costruire un nuovo processo interattivo quindi il web 3.0 è questo. Allora il 5.0 diventa praticamente qualcosa di più perché in pratica come potete osservare dal 2009 ad oggi il web 3.0 è cresciuto mensilmente quindi grafico mensile a questi livelli quindi comunque c'è un elevato utilizzo un incremento sicuro del web 3.0. Il web 5.0 sarà da un punto di vista tecnico basato su bitcoin quindi bitcoin potete osservare che se tanto ci dà tanto a tutti dal punto di vista tecnico il web 5.0 potrebbe aprire delle librerie quindi se tutti naturalmente i mail decideranno di approvare queste modifiche alla blockchain permetteranno anche l'utilizzo di smart contract e quindi l'interazione di sistemi decentralizzati sotto rete bitcoin e non rete ethereum quindi potrebbe diventare un concorrente a pieno titolo dal punto di vista delle applicazioni tecnologiche che se ne vanno a utilizzare questo totalmente l'avevo letto in un precedente articolo comunque sia qui web 5.0 sarà powered by bitcoin will replace web 3.0 quindi praticamente sta dicendo che il web 5.0 sarà sviluppato e potenziato da bitcoin per rimpiazzare il web 3.0 web 3.0 che praticamente è basato su ethereum ma lo vedete anche dal fatto che quando voi dovete utilizzare web 3.0 installare l'applicazione delle librerie web 3.js e quindi praticamente è chiaro che il discorso relativo ethereum è predominante in questo momento ma allora perché si va da web 3.0 a web 5 e non c'è il web 4.0 il web 4.0 anche come conosciuto come mobile web è un sistema che ha praticamente la infrastruttura necessaria per adottare il sistema ambienti mobile per quanto concerne tutto quello che il led up e le smart contract e i wallet eccetera quindi un sistema integrato non a caso io qualche giorno fa prima di spiegarvi adesso nel dettaglio questa potenzialità del web 4.0 e 5.0 vi avevo fatto notare nei miei precedenti video il discorso della solana mobile che svilupperà saga lo smartphone con tecnologia via decentralizzata e che costerà intorno ai 1000 dollari e per poterlo prenotare dovete inserire 100 dollari tether o altri credi nel wallet che vi indicheranno a mo' di blocco per poter garantire questi verranno recuperati ma attenzione è solamente per dimostrare la vostra interesse il vostro interesse nello sviluppo di questo telefono quando sarà pronto poi saranno totalmente questi 100 dollari rimborsati infine comunque il web 4.0 praticamente renderà disponibile la mobilità la mobilità la voce l'interazione quindi tra tutti gli utenti anche i bot o i robot presenti all'interno di determinate applicazioni e il focus dei precedenti tipi di siti internet che era naturalmente un uso interattivo con internet ma con un front desktop e non un computer il focus del web 4.0 è proprio quello della attività mobile quindi degli smartphone e dell'attività che però va verso un sistema decentralizzato quindi questo articolo è abbastanza chiaro adesso andiamo è un articolo un po' meno interessante un po' meno interessante dal punto di vista tecnologico ma un po' di regolamentazione ed ecco a parlare di regolamentazione mica dell'unione europea prima al mondo a effettuare una regolamentazione stretta fortissima su tutte le movimentazioni addirittura non è stato inserito neanche un limite di valore all'interno per i quali il sotto i quali non è necessario il KYC ossia il know your customer o se conosci il tuo cliente praticamente tutti gli exchange saranno obbligati per qualunque importo a inserire e richiedere il KYC quindi i documenti registreranno tutti i movimenti finanziari questo naturalmente da un punto di vista della democrazia della crescita anche della tecnologia è un limite non voglio fare politica secondo me è un'emerita boiata creare un sistema così in quanto a mio avviso le blockchain sono ampiamente democratiche aperte pubbliche si può vedere la qualsiasi informazione quindi dare la possibilità al ne vedremo delle belle ecco sicuramente accadranno delle denunce penali nei confronti di stati agenzie delle entrate o enti terzi quali gli exchange perché il motivo è questo se voi dovete dare tutti i dati compresi anche quelli del vostro indirizzo fisico quindi la vostra casa dove avete detenzione di qualunque altro bene chiaro che se queste informazioni per qualunque ragione dovesse essere conservate male oppure per non nessuna colpa dell'exchange o per nessuna colpa dell'ente terzo che deve detenere i dati a scopo di antiriciclaggio controllo alto dovesse finire le mani di qualche hacker malintenzionato la vostra vita e la vita della vostra famiglia potrebbe essere a serio rischio perché saprebbero tutto di voi anche che avete magari non un millesimo di bitcoin quindi avete 10 euro ma ne avete milioni e quindi coloro che deterranno quelle quantità di denaro potrebbero essere a rischio di minacce di ritorsioni di entrare a casa e minacciare la vita dei vostri figli quindi è altamente pericoloso da un punto di vista della sicurezza dei cittadini una regolamentazione molto molto rischiosa che avrà delle conseguenze degli strascichi strascichi scusate a livello giuridico e quindi nelle sale dei tribunali di tutta Europa perché chi è a conoscenza e quindi conosce la legge un evento di tale genere come andare a dire al mondo intero il vostro indirizzo la cassaforte dove si trova di casa vostra e perché comunque stiamo parlando di non custodial ledger quindi wallet quindi non custodia che dovranno essere monitorati qualunque spostamento da o per gli exchange quindi quegli quegli indirizzi wallet saranno pieni i dati saranno disponibili a chiunque e quindi se c'è un hackeraggio quei dati verranno forniti e saranno pubblicati utilizzati e rivenduti questo rischio naturalmente dovrà pagarne le spese lo stato che accetterà di attuare il sistema mica il sistema mica che ribadisco è una boiata in termini tecnici legali e anche poi amministrativi perché creerà dei problemi ben più gravi di quelli di andare a controllare il riciclaggio o meno delle criptovalute. Fatto questo sia aver parlato male di quello che combina l'Europa con dei sistemi legali praticamente perché probabilmente non c'è nessuna tutela o miglioramenti della tutela nei confronti dei cittadini soltanto un loro maggior controllo dittatoriale da un punto di vista economico finanziario perché loro hanno interesse chiaramente a sviluppare l'euro digitale controllabile e manipolabile e quindi schiavizzare praticamente in base alle loro decisioni e se vi daranno meno la paghetta quindi non so se è saputo ma l'euro digitale si preannuncia come uno stipendio che potrebbe scadere se non utilizzate quindi il loro obiettivo è quello di non creare cittadini che possano continuare il risparmio ma devono semplicemente consumare tutti i soldi tutti in un periodo programmato quindi la differenza tra l'euro di oggi che è un numerino nel computer e l'euro digitale del futuro sarà che l'euro sarà programmabile e voi non potrete più spendere come vi pare o risparmiare come vi pare i vostri soldi quindi secondo me questo tipo di obiettivo della commissione europea che poi è legata a 40 mani con la banca centrale europea è semplicemente di controllo perché non si vuole che la gente abbia la possibilità di in modo democratico di spendere i propri soldi i propri risparmi bene andiamo ad altro perché abbiamo già parlato ampiamente andiamo direttamente sul grafico di bitcoin che vede il prezzo a 19.100 ci prepariamo probabilmente un forte ribasso intorno ai 12.000 dollari visto che non sappiamo se lateralizzerà perché non abbiamo la sfera di cristallo ed ovviamente questi non sono consigli finanziari e tutto quello che viene detto è soltanto una condivisione di analisi tecnica dati eccetera nel breve periodo il prezzo potrebbe andare giù ribadisco nel breve periodo il prezzo potrebbe andare giù anche se si potrebbe lateralizzare prima di andare verso a livello statistica e probabilistico verso giù perché dico questo perché ci sono più volumi giù che sono lo vedete ampiamente dalle montagnette rosse e verdi che sono più ampie e molto più forti a livello di volumi posizionati intorno ai 10.000 dollari quindi probabilmente il prezzo potrebbe andare con uno short squeeze nei prossimi giorni giù le situazioni macroeconomiche non sono sicuramente positive e quindi questo discorso è ampiamente valido andiamo a vedere naturalmente per quanto concerne anche binance con ether contro il dollar otter vediamo che la situazione è molto analoga anzi qua c'è più ampia scelta di 300 dollari 170 dollari e quindi un eventuale discesa oltre gli 870 dollari che il precedente punto di minimo supporto che aveva toccato in precedenza potrebbe prima di tutto far toccare i 574 e poi andare a ritestare i volumi in questa direzione 361 e poi 185 qui naturalmente a 185 vediamo che ci sono addirittura volumi molto più forti e più alti di vendita a 185 che di acquisto vedremo se cambieranno nel tempo ma per avere una panoramica del prossimo futuro un po più ampia quindi vedere i dati nel lungo periodo dobbiamo guardare un po i dati on-chain allora andiamo su CryptoQuant CryptoQuant.com che ci mostra naturalmente un po di dati seri naturalmente gli exchange ossia come sta variando la variazione negli ultimi sette giorni del meno un per cento di bitcoin detenuti da tutti gli exchange a livello complessivo quindi la riserva sta calando quindi significa che a livello di wallet privati le persone non vanno a vendere i propri bitcoin ma li detengono questi risultati sono i ways perché le persone che hanno piccole quantità e sono entrati da poco nel mercato non hanno la conoscenza adatta e quindi per paura di perdere tutto nel prossimo futuro vendono oppure perché ne hanno bisogno ma naturalmente questo tipo di attività lo dovete fare solo quando avete possibilità di non utilizzare quei fondi per un certo periodo se avete necessità di utilizzarli per sopravvivere per alcune spese o emergenze che possono accadere quei soldi non dovete metterli in questi sistemi molto volatili da un punto di vista nel breve periodo ma poi nel lungo poi ci sono sicuramente delle crescite perché se ne avete necessità è ovvio che il e questi sono naturalmente consigli finanziari cioè stare oculati nella decisione e fare attenzione nelle proprie finanze non copiare quello che fanno gli altri ma vedere la vostra propria disponibilità se siete in grado di poter sopportare periodi anche lunghi di drawdown oppure di periodi in cui il prezzo va giù e quindi non potete toccarli quindi state attenti fate le vostre valutazioni ma sapete che la base la bc è quella di utilizzare i propri fondi che potete o sapete di poter perdere perché se non avete questa focus questa possibilità di capire che questi fondi li potete perdere lasciate perdere scusate il gioco di parole andiamo direttamente in chart allora a vedere direttamente gli exchange e quindi le metriche dell'exchange come riserva di bitcoin vedete che continua a scendere inesorabile con la curva blu il dato della riserva di bitcoin quindi siamo messi in una situazione di questo tipo volevo mostrarvi altri due indicatori vediamo se ritrovo ossia quelli relativi al numero di indirizzi perché sono importanti anche valutare on chain se c'è un aumento o meno del degli address andiamo a vedere praticamente il numero di address attivi che comunque sia rispetto al 2019 è comunque in crescita e quindi possiamo dire sicuramente vediamo se possiamo osservare nell'ultimo periodo c'è una fluttuazione generale però andiamo a vedere quelli che ricevono address il numero degli indirizzi è il leggero calo del 2 di luglio rispetto all'1 di luglio però comunque diciamo che è un po' abbastanza costante vediamo il flusso si costante lateralizza praticamente andiamo a vedere i minus depositing i depositi di indirizzi address demand va a diminuire vedete in blu e invece del withdraw quindi prelievo abbastanza costante vediamo invece il flusso degli indirizzi in calo per quanto riguarda il deposito negli exchange e il numero di indirizzi in prelievo anch'esso in leggero calo quindi non c'è grande dato che sorta vediamo un attimo i miners miners i dati dei miners position supply ratio no sommario nel sommario abbiamo i dati dei miners che ci fa capire questo questo dato guardate la posizione dei miners come indicativo MPI mostra una vendita moderata questa vendita moderata almeno per quanto concede i miners fanno intendere questo discorso ci troviamo praticamente in una situazione che i miners stanno ritenendo che non vendono così fortemente stanno vendendo moderatamente perché ritengono che il prezzo a cui il bitcoin si sta testando non è significativamente interessante per i loro parametri vendere a questi prezzi quindi non vorriescono neanche bitcoin dalla parte dei miners e quindi li detengono magari riducono la potenza di calcolo qui infatti possiamo vedere anche le reveni ossia il rendimento del miners che sta diminuendo significativamente comparato naturalmente al costo del singolo blocco di uscita di bitcoin periodico e questo potrebbe indicare che il prezzo è sottovalutato e quindi potrebbe anche esserci un motivo da parte dei miners di incrementare la detenzione delle monete e questo è legato proprio a questa riduzione della vendita naturalmente questa indicazione della bassa revenue ossia basso rendimento dei miners come profitto quindi i dati on-chain naturalmente mostrano gli indicatori in leggera diminuzione nelle ultime 24 ore degli indirizzi attivi ossia il numero di wallet utilizzati per spedire o ricevere coin ma in generale sto parlando non solo di bitcoin le transazioni pure sono diminuite del 14% e il totale trasferito è ridotto del 33% concludiamo il video di 20 minuti con coin market cap con una market cap leggermente sotto i 900 miliardi di dollari che avevo lasciato una settimana fa siamo a 866 una dominance di bitcoin a 42.1% e ether a 14.9 paradossalmente sta scendendo di più la posizione di ethereum che è esplodata di bitcoin con il 42% di dominance rispetto a ethereum e vedete come siamo a 365 miliardi di market cap ethereum a 129 miliardi di market cap tether 66 e chiude la decima posizione dogecoin solana nona che vedete ha perso 20% nell'ultima settimana quella che ha perso di più insieme a ether 14% di perdita nella settimana poi bnb 8% a 218 dollari di chiusura in questo momento di prezzo poi cardano 13% di perdita a prescindere dall'evoluzione tecnologica di cardano di solana eccetera eccetera vedete che il mercato comunque risponde quasi tutto in rosso negli ultimi sette giorni ciao ragazzi grazie sempre per i vostri like e ci sentiamo presto ciao